silenzio ho detto silenzio carcere cioè la scuola di mr light e il tempo è scaduto consegna il conto adesso non ce la faccio mr light ecco il tema tutto sbagliato una f pessimo studente davvero io no dammi una possibilità mi dispiace ciao ciao posso fare di meglio ok un momento ecco qui una f ciao ciao pica chi è seduto qui perché è vuoto non va bene scorriamo l'elenco degli studenti spiderman si è ritirato anche pikachu ne mancano tre bello ho fallito mi ho fatto prendere una f stupido test segui le onde della mia tristezza più lontano e meglio è ciao cos'è che schifo è appiccicoso scendi oh no il mio zaino il peggior giorno di sempre cos'è vuoi superare il test sono io la tua risposta ok faboloso insegnarci una perdita di tempo ficcati il coseno super il credo di aver fallito alla grande non è la fine del mondo bene bene oh la mia piccola carola per me che voglio te vieni con me ok aiuto cosa ehi sorellina hai qualche snack ok tieni grazie buono era qui da qualche parte eccola la mia pentola magica diamoci dentro aggiusterò il brutto ecco la formula per cambiare i voti cambiala f ma fai sparire il brutto no 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 stai sbagliando ballo a me ecco come si fa magentus universus lezione del light teleportus siamo arrivati questa è la tua nuova scuola ehi ragazzi no fammi uscire questo arredamento è carino benvenuti in prigione o volevo dire a scuola da mister light ma chi ha inventato le manette facile una scuola è essenzialmente una prigione ha ragione ma non ho paura qui oh cielo è una stanza delle torture un refrigeratore di sangue ha un brutto presentimento c'è uno scheletro alla mia scrivania ragazzi scrivete qui sotto chi è non riesco a guardarlo beh ho qualcosa da mostrarvi i miei migliori laureati harley pommi pica ban ban guen e il muro della vergogna di miss the light sono morti il mio orgoglio e la mia gioia è così tolpe lezione di matematica abbiamo un volontario no no catnap no lasciami andare non voglio aiuto non mi piace l'elettricità smettila forza ok mi siedo siediti così bravo cartino ben fatto facciamo matematica sei una leggenda della magrenza fai la paleo ehi mano conosci la procedura la matematica è facile caccia e pesca questo va meglio basta il mio metodo è valido prendi il gesso e fai l'equazione no ecco cosa mi serve preso ecco oh oh ma che fai? bel colpo ecco ops scusa il puntatore è per l'insegnante sia di lui cosa? ma non fa per me noioso vieni tu psst qual è la risposta? quattro guarda la mia mano con tale dita ho capito quindi la risposta è cinque sono un genio ah no vieni accomodati cosa? che sta combinando? povero jacks il corso intensivo di fisica quantistica è iniziato carichiamo la conoscenza nel sistema si parte scuola spettacolare è il momento del livello di approfondimento cavolo non lo augurerai al mio nemico ehi bella adoro le donne anziate ti va di uscire la lezione è finita ti senti bene wow jacks cosa? la risposta è cinque allora? bravo sei un genio siediti la scuola è il massimo vai tu siediti e non opporti sai che roba? che paura come acqua fresca? fino in fondo niente e ora? più forte come può essere? posso? massima potenza oh sì che bello tu la più grande pianta grane della scuola come osi ingannare il sistema? furbacchio ma torna al tuo posto e pensa a ciò che hai fatto insegnare è un inferno mi serve un momento per me stessa ecco adorabile veleno? ehi katna vedi l'insegnante? ho un piano ci sono cos'è questo odore? fantastico ehi jacks che c'è? sta sonnecchiando ok capito perfetta entra entra perfettamente beh io me ne vado cosa? dove sta andando? dai! che succede ancora? davvero? pensavi di poterci lasciare qui? va bene oh sì grazie ecco venite cosa? sei seria? è un po' forte lascia fare a me wow 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 ehi 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 hai la mia testa ah lezione di grammatica cutnap vieni ehi 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 non ti piace erba gatta? oh si il mio tesoro bene un altro piccolo dettaglio ecco la mia erba gatta funziona a meraviglia corre lì gatti alzati e pedala ma non voglio qualcuno mi fermi come va il tuo saggio? per favore non ce la faccio più oh cavolo il segreto è non fermarsi forza mano la calligrafia deve essere bella ehi non si vara prendi una penna bene non importa cosa? perché non viene fulminata? papà mondo voglio tornare in cella oh la mia povera manina dai foto sì mi sta bene con la morte no ecco i test fate attenzione scriverò il mio testamento lascio in eredità lascio in eredità la mia carota preferita test ho finito ecco il tuo test ben fatto eccellente sei una studentessa eccezionale ok è l'ora della merenda mister light ho finito davvero? fammi venire una F le risposte sono corrette oh sì ma come? qua sto al sistema l'insegnante ha un glitch cosa? il pulsante della vergogna premi ora oh sì mister light è morta e se n'è andata ok sei la prossima suo figlio va male a scuola? proprio così tuo figlio ha voti bassi? sì tuo figlio non legge mai i libri e gioca ai videogiochi tutto il giorno oh ho una soluzione per questo miss the light un'insegnante perfetta a casa tua chiamaci ora per non doverci chiamare dopo sì ordiniamo miss the light un pezzo solo tesoro è un'idea fantastica la tua nuova insegnante allora ti piace? molto come funziona? ha bisogno di essere attivata? strano non funziona ho un'idea non è stata una buona idea il mio dito non voglio studiare tesoro che stai facendo? c'è un telecomando accenditi accenditi no need to hate no need to hate I love my art class music's asso no need to hate no need to hate fantastico la adoro evviva ottimo tesoro comportati bene studia con miss the light ok io e papà dobbiamo andare miss the light si prenderà cura di te ciao ciao niente studio giocherò tutto il giorno be devi studiare spostati stai bloccando la visuale devi concentrarti sui compi sei una pasta pasta oh una pizza adoro gli spunti devi fare i compiti sono stufa di te lasciami in pace bene posso giocare prima devi fare il test devi studiare bene lo farò per toglierti il ritorno posso avere dell'acqua ho sete certo ecco ho un'idea migliore oops ehi miss the light dove sei? dove è andata? tu devi studiare non è più divertente ti farò imparare no 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 dov'è il telecomando? non puoi scappare da me no ti prego non farlo cosa faccio? oh il telecomando la spegno subito spegniti tesoro siamo a casa che cosa? perché stai giocando di nuovo con la console? hai spento mister light? no è un mostro cosa? è solo un robot cioè ma come? ragazzi scrivete che miss the light è cattiva nei commenti qui sotto passami il telecomando no papà non attivarla buon pomeriggio becky controllo il tuo lavoro dieci e lode ben fatto becky un lavoro eccellente ottimo lavoro tesoro miss the light è stata di grande aiuto ora educazione fisica lasciatemi sola con lei tesoro divertitevi ragazze ciao ti insegnerà qui stendi il tappetino cosa facciamo? ho una lista iniziamo con i piegamenti sono stanca ecco dell'acqua rinfrescati grazie vieni oh no non questo l'allenamento si sta facendo serio cosa? ecco a te panca è troppo pesante panca un bambino non dovrebbe sollevare tutto quel peso pensi di avere ragione? mettiamolo alla prova vai 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 basta pappamolle giochiamo al tiro alla punta non ne ho proprio voglia inizia ad averne voglia ok forza possiamo tirarla insieme non sono della stessa idea nessuno mi fa arrabbiare per favore non farlo stai lontana non avete fatto i conti no 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 non farlo è svenuta? per un pelo mettila qui grazie in bocca al lupo ehi tesoro che succede a Mr. Light? si è rotta? la batteria è scarica allora ricarichiamola no sta bene così fermo non farlo perché no? perché è un robo mostro solo se questo video ottiene cinquanta mila like ragazzi date a questo video cinquanta mila like aiutatemi oh guasto al sistema? ecco Mr. Light è di nuovo in funzione piccola continua a studiare ecco un'equazione risolvila ok ma non stai risolvendo l'equazione non è giusto cancella tutto perché? il mio disegno nooo per favore non questo non trasformarti in c'è un nuovo programma di studio cosa? come trasformare una ragazza in catenat? iniziamo con i denti togliamoli santo cielo fai qualcosa fermati mostro robotico chi è? non obbedirò più ai vostri oh mio dio piccola non preoccuparti troveremo una soluzione c'è un volontario? equazione o trasformazione chi conosce la risposta? nessuno? in tal caso diventerete i miei piccoli animali no 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 che sta succedendo? aiuto! salve! chi è? ho sbagliato aula fermo lì aiutateci per favore aspetta ho le vortici sì attimo lavoro mamma smettila di controccerti sbrigati tesoro dai piccola un momento taglia e scappa se lei vi al quadrato il coseno è un gioco da ragazzi ma che fai? corri ehi non sono un maiale tesoro sbrigati forza nascondiamoci negli armadietti oh mi sono pentito di aver mangiato troppo ecco di qui forza pancia ah ti ho preso fermati no non farlo per favore Becky dove stai andando? aspetta guarda chi c'è non esiste allora? vuoi andare a fare un giro? no fermati non farmi del male cosa sta succedendo lì? buon volo metti un like il prima possibile forza! la mia testa bentornata bentornata no 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 ciao tesoro no 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 il restyling è iniziato allora? chi c'è? cosa stai nascondendo? il gesso prova a risolvere il problema uno questa è la risposta non può essere grande piccola sei stata bravissima ben fatto sì ce l'ha fatta mamma papà ora ce ne andiamo ciao studenti oggi farete un testo non pensiamo proprio no signore no oh sì fregato guardate la sua faccia perdente smettetela di ridere le mie dita sì 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 aspettila di prenderlo in giro cosa? grazie a dio vado in pensione questo è il giorno più bello della mia vita oh sì pensionamento non vi rivedrò mai più perdenti addio grazie per il tuo duro lavoro addio non mi mancherai va bene studenti ecco la vostra nuova insegnante listolai ciao andrete sicuramente d'accordo ciao studenti è ora di fare un test ah ti piacerebbe non illuderti non mi ripeterò farete un test ehi che succede? il test mi è rimasto attaccato non so cosa fare scrivi il tuo nome non ricordo il mio nome scrivi il tuo nome non me lo ricordo che frignona oh brucia oops com'è successo? perché non hai difficoltà? io non gioco a questi giochi dammelo no mancata oh grazie oh no corriamo giochiamo a nascondino fantastico dove sono tutti? aspettatemi corriamo che cosa ho qui? i cattivi studenti saranno puniti no 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 vi insegnerò a rispettare gli insegnanti oh sì mi occuperò io di lei oh che paura f oh cosa sta succedendo? la mia mela oh 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 pommi colpisci questo resisti i miei capelli e adesso qual è il piano? nelle scatole stupido diario dove siete? vi nascondete tutti eh? codardi bene giochiamo a nascondino pronti o no? io arrivo ma prima sceglierò la mia arma per rendere il tutto più interessante una lama che fortuna signore e signori signori vi mostrerò un trucco fantastico non avete mai visto niente di simile prima taglierò questa scatola con questa bellissima lama non è super? oh no 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 ehi ragazzi chi pensate che si nasconda in questa scatola? scrivete la risposta nei commenti oops ce l'abbiamo fatta ancora una volta uno due mi manca solo la terza lama oh cos'è? da dove viene? oh no ma dov'è la lama? giusto ho un pappello magico vedrete cosa? sì è la terza lama va tutto bene oh poverini siete stati tagliati in tre pezzi mi dispiace tanto stavo solo scherzando non mi dispiace per nessuno vediamo tesoro che abbiamo qui cosa? non c'è nessuno è vuoto sono stata ingannata tu tu sei il prossimo vediamo cosa esce perfetto un brutto voto no è troppo piccolo abbiamo bisogno di qualcosa di più grande oh sì ora sicuramente non lo mancherò oh non male ancora colpo perfetto chi si nascondeva lì? ciao 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 siediti qui sei in grossi guai ora non puoi scappare che gioco divertente oh sì ho preso una studentessa ciao ciao vampira Continuiamo a girare Pronto? Portate qui la gru Subito Dobbiamo demolire una scatola Vai! Avvia la gru Oh oh! No! Direzione sbagliata Ve la faccio vedere L'altra direzione Non toccarmi Lasciami in pace Bene Questo è tutto Mi hai conquistato E ora siamo amici Avanti Occupati di questa scatola Ciao E un bonus extra No! Ups! Ciao ciao gattino Libertà! Dove stai andando? Da nessuna parte Sto tornando indietro Siediti gatto Addio cutnap Cancellato Fantastico! Chi sarà il prossimo? Oh sì! Proviamo la mela Orologio? Cosa? Cosa significa? Uccidere il tempo? Non capisco Non capisco Ahà! Ora capisco Tempo in avanti Adesso questo bastone è mio Posso fare qualsiasi cosa Ehi Mr. Light Quello non è il tuo bastone Insipida bionda Cosa? Ecco fatto! Una nuova aggiunta alla classe Vi presento questa ragazza cattiva Siediti lì e pensa a quello che hai fatto Sosso, carta, forbici Sì, ho vinto Buon soggiorno Ancora! Ti batterò Sosso, carta, forbici Ho perso Ok, facciamola girare di nuovo Cosa uscirà? Cosa? Una pausa musicale! Cosa? Mi piace! Oh, anch'io adoro ballare Eccoti! Grazie per il ballo È ora che tu vada Ciao! Che cosa? Dov'è? Ti troverò C'è una porta laggiù Ehi ragazzi Se questo video riceve 50.000 mi piace Allora proverò a scappare da qui Per favore La mia mazza preferita Oh sì Ebbene, dove sei? Cosa? È scappata Non puoi scappare da me Dove posso nascondermi? Mr. Light si sta avvicinando Forza, apriti Vai via Questo armadietto è occupato Oh, ho un'idea Spero che non mi trovi qui Tac, tac, tac C'è qualcuno qui? Ancora? Miss Delight? E chi sei? Sono il tuo più grande fan Ti amo Posso baciarti? Cosa? Fermati! Lasciami passare Ma non posso perdere questa occasione Mi chiedi i libri? Indietro Cosa vuoi da me? Guarda, sono uno studente e modello È tutto per te Sono stanca di te Ok, andiamo Visto che insisti Siediti Anche tu sei nei guai È un onore per me far parte del fan club di Miss Delight Sei zitto? Ok, va bene Sì, fantastico Chi sei? Lo conosci? Chi è? Non lo so Tesoro Oggi è il giorno più bello della mia vita Finalmente sarai mia moglie Oh, sono così nervosa Posso avere un bicchiere? Grazie Ecco i nostri anelli Stai bene? Sei ferita? Che succede? Qualcosa non va nel cappello? Non tu Lei Cosa? La mia sposa è morta Cosa le è successo? È devastante Morire al proprio matrimonio Ve l'ha uccisa Uno di noi Calma Conosco qualcuno Ehi Rispondi Nessuna risposta Oh, una chiamata Ehi amico Potresti tirare fuori il mio telefono? Nella tasca Dammi il telefono Detective Pikachu Sì, sono qui Ehi Bene, bene, bene Ecco la nostra vittima Cosa abbiamo qui? Un battito Oh, no Sono calmo Cercherò di reanimarla Libera Libera di nuovo Forza Mega libera Ce l'ho messa tutta Devo registrare l'ora del decesso Che ora è? Oh, ragazzi Devo sapere a che ora è morta Miss Delight Per favore Scrivete l'ora esatta qui sotto Grazie Fatevi da parte Non interferite con le indagini Ho una scena del crimine qui Ora raccoglierò le prove Qual è stata la causa della morte? Ci siamo Capisco È veleno Ecco la lista degli invitati L'assassino è uno di loro Allora Chi è stato? Dog Day Sei stato tu? Ci sono tracce di veleno su di te Confessa Ci sei tu dietro all'avvelenamento So cos'è successo Miss Delight è passata da te Che diavolo è? Ehi, Dog Day Oh, la tua casa è davvero carina Questo è per te Posso avere un ricchiere d'acqua? Pronto Vieni subito È urgente Ragazzi Prendete tutti i mobili Iniziate a caricare tutto Ok Non voglio che rimanga nulla qui Veloci Ecco l'acqua Dov'è la mia roba? Mi hanno derubato Perché? Miss Delight Non la passerai liscia Così hai messo del veleno nel suo bicchiere È così semplice Sei tu la cattiva No, no, no Non è quello che è successo Stavo mangiando il mio cibo preferito E ho accidentalmente macchiato la mia gola Ops Chi potrebbe mai essere? Cane arrabbiato Che cos'è? Un invito al matrimonio da parte di Miss Delight e Zookeeper? Wow, grazie Ci sarò Ma che c'è adesso? Oh, ehi Scusa se ti ho abbaiato contro Firmi per la consegna? Certo Ecco Bello Attivo il sistema di sicurezza e sorveglianza della casa Oh Visto? Tutte le mie cose sono al loro posto Miss Delight non mi ha mai derubata Quindi non ho alcun movente Sì, ha senso Mi dispiace Detective, è meglio che inizi a cercare il vero assassino Chi può essere? Che, cos'è quello? Una prova Che credi di essere? Sbuto il rospo Perché hai ucciso Miss Delight? So che sei stato tu Ecco com'è successo Signore e signori State per assistere al mio miglior trucco di magia Svanirò magicamente davanti ai vostri occhi Attenti al tessuto Kane, apri Ma dove è andato? Oh, è aperto Bene Posso entrare Ocus, pocus Ehi, Kane Ma dove sei? È davvero scomparso? Oh, è lì Perché ti nascondi qui? Hai rovinato il mio trucco magico E siamo in diretta Oh, ehi, ragazzi Kane, sei invitato al mio matrimonio Ti voglio davvero con me Ciao, follower di Kane Oh, Delight Così hai avvelenato la sua bevanda Una vendetta perfetta Kane, sei tu l'assassino No, no, no Ti sei fatto un'idea sbagliata Questo è ciò che è realmente accaduto Signore e signori State per assistere a un trucco di magia dal vivo Vedrete Miss Delight Bravo Sono un genio Oh, ehi, Kane Volevo solo darti la mia partecipazione di nozze Ecco Segna la data Potresti riportarmi indietro adesso? Certo Un minuto Oh, le mie braccia non funzionano Dovrò usare il bastone Ciao, Miss Delight Sono un mago straordinario Il live stream mi ha fatto guadagnare un milione di iscritti Vedi? Non avevo motivo per uccidere Miss Delight Immagino che abbia senso Ehi, come hai fatto? Magia Dov'è andato? Kane, stai sabotando la mia indagine Chi di voi è il prossimo sospettato? Sta nascondendo un messaggio d'amore Hoppy, sei tu Lo so Sei tu che hai avvelenato Miss Delight Confessa No, non sono stata io Una lettera d'amore Ecco il movente Un crimine passionale Miss Delight è venuta per invitarti al suo matrimonio Tu Non puoi entrare Cosa vuoi dire? Fammi entrare Non posso Sono qui per invitarti al mio matrimonio Grazie, ciao Che cosa? Un muro dell'amore Ti piace il mio fidanzato? Scusa, non avresti dovuto vederlo? Il guardiano dello zoo È tu Solo nei tuoi sogni Ci vediamo al mio matrimonio Orecchie grandi Ottiene sempre quello che vuole Ma ora non Così hai avvelenato la sposa E ti sei sbarazzata della concorrenza I conti tornano Sei tu l'assassino Guardiano dello zoo No, non è così Miss Delight è venuta a invitarmi al suo matrimonio Io e il guardiano dello zoo ci sposiamo Ecco il tuo invito Cos'è quello? No, no, ciao Aspetta, che cosa? Un muro dell'amore? Hai una cotta per Huggy Wuggy? Sì Tu e il mostro blu Oh, è molto romantico Ho un'idea Aggiungerò Huggy alla lista degli invitati Passami una penna Ehm, come si scrive? Ehi ragazzi Scrivete qui sotto come si scrive Huggy Wuggy Così potrò aggiungerlo alla lista Grazie Fatto Ecco, ci sarà anche Huggy Oh, grazie Miss Delight Non c'è di me Ci vediamo al matrimonio Apri quella lettera Giusto Huggy Wuggy Ma shh È il nostro segreto Capisco Le accuse sono cadute L'indagine continua Shhh Ho capito Starò zitto Ma chi è l'assassino? No Il bambino decisamente no Huggy Wuggy Sei davvero sospettoso Tocca a te Hai avvelenato Miss Delight Faresti meglio ad ammetterlo Ehi, togliti le cuffie L'hai uccisa Ecco cos'è successo Stavi giocando al tuo gioco preferito E non sentivi nulla Ehi, andiamo Chi suona? Non importa Smetti di suonare Sono occupato Non c'è nessuno in casa Ah, qualcuno davvero insistente Ora la vedrai Apri Oh, ehi, Huggy Dove stai andando? Aspetta Sono qui per invitarti al mio matrimonio Io e il guardiano dello zoo Ehi, che maleducato Eh? Il mio gioco Tu Dove ero rimasta? Che invito? Ci vediamo al matrimonio Ciao Me l'hai rovinato Così hai avvelenato Miss Delight Oh, la vendetta è dolce Huggy, ci sei tu dietro Caso chiuso No, non è mai successo Ti dirò il mio punto di vista In realtà ero nel bel mezzo della mia partita Ma ho preso un virus Mi ha ipnotizzato Non riuscivo a muovermi Huggy, apri Deve esserci qualcosa che non va Arrivo, Huggy Tieni duro Cosa? Oh cielo Un virus ipnotico Devo spegnere lo schermo Miss Delight Mi hai salvato Grazie Oh, ho un'altra cosa per te Un invito a nozze Passa, eh Ci vediamo Grazie Miss Delight mi ha salvato Non l'ho mai uccisa Ehi, voglio le mie cuffie Scusa Allora, chi è l'assassino? Le indagini sono ferme Ehi, detective C'è un altro sospettato Io? Tu, interrogatorio